L'Ordine dei Medici Chirurghi e delle Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato il corso di aggiornamento in presenza su Casi Clinici in Chirurgia, che si terrà domani, sabato 9 aprile 2022 alle 8.30 presso la Sala Conferenze dell'Hotel Grazia dell'Edda, in Viale Dante 49 a Sassari. Il corso è accreditato nell'ambito del Programma di Educazione Continua in Medicina per la professione di medico-chirurgo, riservato a 60 partecipanti ai quali saranno riconosciuti quattro crediti formativi. Responsabile scientifico del corso il professor Leonardo Andrea De Logu. Al prossimo episodio